Dal 5 febbraio ANPAS ha messo in campo volontari e mezzi per la gestione dell'emergenza Covid-19. All'aeroporto di Genova, a seguito dell'attivazione del Dipartimento di Protezione Civile con il coordinamento di USMAF 118, i volontari hanno effettuato i controlli della temperatura, ma le attività non si sono limitate all'aeroporto. Le nostre associazioni hanno infatti continuato a garantire sul territorio i servizi di trasporto sanitario e di emergenza 118. Con l'intensificarsi dell'emergenza e le numerose richieste da parte del sistema sanitario e delle sale operative, abbiamo allestito punti medici presso i nosocomi per il supporto del triage dei pazienti. Abbiamo inoltre e continueremo a garantire tutte le richieste a supporto e a sostegno delle persone che ne avranno bisogno.